Cosa c'è? Visionaire al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. Il 14 giugno prende il via a Bologna e il 14esimo Biografim Festival ad aprire la manifestazione sarà My Generation con Michael Caine. Il regista del film, David Betti, farà poi parte della giuria del concorso, in programma 93 titoli con 79 anteprime nazionali e 19 mondiali. Per quanto riguarda i nuovi progetti c'è da segnalare il ritorno alla regia di Sam Raimi, che dirigerà The Bermuda Triangle. Del film si parla già da un anno ma ora comincia ad affiorare qualche dettaglio. È di questi giorni la notizia che il protagonista avrà il volto di Ryan Reynolds. La prima sinossi ufficiale parla di un fisico teorico che, incaricato di trovare un sottomarino disperso, si appoggia alle ricerche del nonno per aprire una porta a spazio-temporale, che rivela un'isola misteriosa abitata da tutte le persone scomparse nella zona. L'uscita nelle sale degli Stati Uniti è prevista per il 2019. Intanto Dwayne Johnson e Gal Gadot staranno insieme sul set della commedia d'azione Red Notice, diretta da Rose Marshall Thurber. Non ci sono ancora dettagli sulla trama ma si sa che al centro del racconto ci saranno un agente dell'Interpol e una affascinante Dark Lady che gravita intorno al mondo dell'arte. Ci lasciamo ora con un appuntamento in piazza del Plebiscito a Napoli, dove si terrà una tre giorni per ricordare Massimo Troisi e omaggiare il trio La Smorfia, di cui ricorrono i 40 anni dalla nascita. L'appuntamento è per il 22, 23 e 24 giugno, un evento che per la prima volta vede accanto a tanti artisti e amici di Troisi anche il coinvolgimento della famiglia. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito www.visioner.fm. A presto e buon cinema a tutti!